Non si è fatta attendere la risposta di Palazzo Pretorio alle esternazioni di Flavio Biondo, presidente altogardesano dei ristoratori, che critica la scelta del comune di Riva di mandare in asta al massimo rialzo i poli turistici dei Sabioni e della spiaggia dei Pini, assegnati rispettivamente alla Samarcanda di Verona e alla società Coop Torino. Dovremmo verificare i documenti presentati dalle due società prima di ufficializzare l'aggiudicazione, ha dichiarato l'assessore al patrimonio Alessio Zanoni. Ma è giusto ricordare che la nostra base d'asta era fissata a 55 mila euro e che certo non abbiamo forzato noi il rialzo fatto dai privati. Si tenga conto anche che il comune ha fatto importanti migliorie, soprattutto sul polo dei Sabioni. Peraltro la procedura è la stessa da sempre. L'associazione di categoria, conclude Zanoni, dovrebbe preoccuparsi di più di quanto accade ai loro operatori, in particolare della turnazione degli esercizi commerciali in città. Una girandola di negozi, in due anni il 30% delle attività è passato di mano. Forse sono i privati a drogare il mercato e non il pubblico.